Sono Davide Fabri, sono candidato a Sindaco di Cesena, sostenuto da una lista civica, Cesena in Comune. Ho fatto l'amministratore pubblico a Cesena per tanti anni e pertanto penso di aver maturato competenza, esperienza, credo di poter svolgere con efficacia, ma soprattutto con passione e impegno civico il ruolo di Sindaco della città. Siamo in casa di Confartigianato che ringraziamo ovviamente, quindi parliamo di lavoro, parliamo di sostegno alle imprese, sostegno alle imprese nel tessuto produttivo Cesenate. Chi mi conosce bene lo sa già, io ho cercato di battermi contro lo strapotere dei poteri forti, economici, centri di potere che hanno in questa città fortemente condizionato e modificato radicalmente in peggio l'assetto produttivo economico della nostra città. Confartigianato tutela le piccole e le medie imprese. Io col mio impegno cerco di difendere i piccoli commercianti, i piccoli imprenditori, i piccoli artigiani. È necessario questo impegno a difesa dei piccoli perché? Perché il Comune in questi anni a guida Partito Democratico fino ad ora ha costruito un rapporto di vicinanza e di subalternità nei confronti dei grandi industriali e nei confronti della grande distribuzione commerciale. Il Comune non ha fatto nulla per favorire le più deboli economie del territorio, i piccoli imprenditori, i piccoli artigiani. Fino ad ora sono state costruite corsie preferenziali a favore dei grandi centri di potere. Con scarsa trasparenza sono state fatte varianti ad hoc ai piani regolatori solo ed esclusivamente per i grandi industriali. Queste politiche hanno stravolto il tessuto commerciale, produttivo e economico del nostro territorio. Occorre adesso con la mia candidatura, occorre cambiare, fare una politica a favore di tutti. Occorre pari opportunità per chi fa impresa. Chi fa impresa, chi è un piccolo imprenditore, deve avere le stesse condizioni, le stesse opportunità per appunto fare impresa sul territorio. Quindi occorre ristabilire un sistema di regole certo e trasparente. Occorre un riequilibrio fra tutte le forze in campo. E quindi tre proposte. La prima, il Comune deve favorire investimenti economici in settori capaci di migliorare la qualità urbana, rigenerazione, ristrutturazione degli immobili, innovazione tecnologica. Numero due, creazione di un'agenzia comunale per l'ecosviluppo, per individuare strategie innovative per l'intero sistema commerciale produttivo del nostro territorio, seguendo principi di sostenibilità ambientale. Terzo, questa agenzia deve avere lo scopo di sostenere l'occupazione, l'autoimprenditorialità per creare appunto nuove imprese. Attraverso accordi con le banche si potranno agevolare finanziamenti sotto forma di contributi in conto capitale e di contributi in conto gestione finalizzati appunto all'apertura di nuove imprese nel territorio.